Anticipazioni il segreto, mercoledì 22 maggio 2019. Maria ascolta gli strani discorsi di Fernando e lascia intendere di temere di essere stata smascherata. La ragazza nota un certo cambiamento nel Messia. Lo vede scostante, freddo, come se non si fidasse più di lei. Per questo motivo allarmata decide di andargli a parlare. Pilar corre da Ulieta e le riferisce che purtroppo c'è una famiglia che non vuole incontrarla. La ragazza coraggiosamente decide di fargli visita. È molto preoccupata perché mancherebbero solo le loro firme e senza di esse le speranze di sconfiggere i molero si affievoliscono sempre di più. Quando la donna giunge a casa dei suddetti abitanti di Las Lagunas resta sconvolta. Trova una donna sola e disperata che afferma che con la morte di suo figlio tutto è cambiato. Proseguendo nel suo discorso ritiene che non vi sia più motivo di combattere, di andare avanti. Meriton intanto fa una scoperta che lo destabilizza moltissimo. Le banconote presenti in Emporio sono false.